Tartarughe ninja della IDW numero 12, è arrivato Slash e la missione è uccidere le tartarughe. Wabalabadabdabe bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica... E' caduto Vegeta. Wabalabadabdabe bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica Tartarughe ninja, rubrica in cui parlo dei numeri della IDW che sono usciti in Italia, editi da Panini Comics dal 2013 ad oggi in attesa dell'uscita consueta bimestrale, si fa per dire. Il bimestrale è uscito questo mese finalmente, se tutto va bene riesco a parlarne con voi sabato prossimo, comunque il prossimo weekend, e tenetevi forte perché nel mese di marzo ci occuperemo, dato che esce il film The Batman di Matt Reeves, parleremo dei crossover tra Batman e le tartarughe ninja. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, richiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace questo video, anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano le tartarughe ninja, di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero, se l'avete letto e se non l'avete letto, se questo riassunto vi sta aiutando a seguire la serie. Il numero si apre esattamente con il cliffhanger finale della scorsa puntata, diciamo con uno slash nerboruto, altissimo, che ricorda molto Tocca di Tocca e Razor, che sta prendendo per il collo Leonardo. Slash è davvero gigante, è davvero enorme, tutte e quattro le tartarughe ninja insieme non riescono a tenergli testa, anche se lo combattono uniti, quindi questo significa che a parità di forza brutta, riesce a sovrastare persino le abilità di Shredder, dal momento che Shredder comunque è stato sovrastato dalle quattro tartarughe ninja. Ecco, vediamo più o meno qua un'idea della scala che hanno dato a Slash rispetto alle tartarughe, scala che io davvero, come ho detto nell'altro numero, non trovo azzeccata, non mi piace che ci sia questa enorme differenza tra Slash e le tartarughe, una differenza sì ma non così grande, però questi sono i miei pareri personali. Il numero è diviso in due storie, la prima storia appunto è quella di Slash, dove si cerca in tutti i modi di atterrarlo, di colpirlo, di fare in modo che cerchi di uccidere le tartarughe. Anche per un attimo Donatello, per esempio, suggerisce anche di eliminarlo, suggerisce anche se non si riesce in altro modo di o noi o loro, o noi o lui, quindi suggerisce in un certo senso di liberarsi definitivamente di Slash anche uccidendolo, cosa che non è assolutamente condivisa da Michelangelo e Leonardo, che appunto è il leader sul campo del gruppo, percepisce questo desiderio di Michelangelo e ricorda uno degli insegnamenti del maestro Splinter di come l'arma del ninjitsu sia un'arma di difesa e loro debbano ricorrere alla violenza solo come ultima risorsa, proprio perché la vita è sacra e va sempre preservata. Con queste parole, Leonardo cerca di parlare a Slash, che però è molto basico, ha, se voi notate, ha praticamente il suo balloon, è come quello, non so se è come quello di Venom, comunque è totalmente nero con la scritta bianca e dice pochissime parole, ha un cervello molto limitato, ha ancora un cervello rettile, che funziona in due modi, attacco o scappo, in questo caso attacco perché è pure condizionato dalla Stockgen. Leonardo cerca comunque due o tre volte di ragionare con lui, di farlo calmare, non riuscendoci. Quando April O'Neil e Casey Jones arrivano in soccorso delle tartarughe, Slash si scatena di nuovo, sta rischiando quasi di far del male a Michelangelo, Leonardo lo attira su di sé e in una colluttazione in cui entrambi si cappottano, scusate l'italiano non molto corretto, una delle due katane di Leonardo si infila quasi totalmente nella spalla di Slash. Slash se la estrae da solo, sfilandosi anche la bandana nera, cosa molto importante più avanti, poi quando succederà vi ricorderò questo video. Slash finora ha avuto una bandana nera che si è creato da solo e ha combattuto con le tartarughe ninja con la sua classica bandana nera, quella che ha anche nel giocattolo degli anni Ottanta. Adesso sfilandosi la spalla si è strappato la bandana, quindi abbiamo uno Slash privo di bandana che, tra parentesi, ricorderà ancora di più Tocca di Tocca e Razer. Nel momento in cui si estrae la spada sviene cadendo in uno scarico fognario. Le tartarughe erano nei sotterranei sotto la chiesa abbandonata a cercare un nuovo rifugio, una nuova tana per loro e quindi c'era questo canale fognario dove Slash è caduto ed è stato trasportato via dalla corrente. Quindi le tartarughe non sanno se Slash è morto, Michelangelo ci è rimasto abbastanza male, è rimasto abbastanza scosso, oltre dal punto di vista fisico ovviamente, Leonardo pure. In una scena di epilogo dove le tartarughe ninja stanno appunto cercando di sistemare questo nuovo rifugio e Raffaello, che appunto è quello più impetuoso del gruppo, quello più forse pragmatico insieme a Donatello e non riesce a capire la sensibilità di persone come Michelangelo e quando la nota, la reputa una debolezza viene appunto sgridato, viene ragguagliato da Splinter sul fatto che Michelangelo in realtà è un animo sensibile, è un animo sensibile da ben due vite e questa è una citazione sul fatto che in questo contesto le tartarughe ninja sono una reincarnazione della famiglia Amato che è stata sterminata da Shredder nel Giappone feudale. Michelangelo è un animo sensibile da due vite, lui cerca il bene in tutte le persone attorno a lui, cerca l'amore che lui stesso riesce a, invece a esprimere senza troppa fatica, quindi spesso le persone in questo modo vengono anche ferite dal fatto che si trovano di fronte persone che non sono così ma che ne approfittano per circuire appunto gli animi sensibili. Però Splinter ci tiene a dire che questo per Michelangelo è un pregio e inoltre la discussione si porta anche su Leonardo sulla reazione apparentemente fredda di Leonardo sul fatto che potrebbe aver ucciso un essere che fondamentalmente era come loro, era una vittima di questi esperimenti esattamente come loro. Raffaello crede che Leonardo appunto non abbia subito uno scossone da questo punto di vista dal momento che ha reagito con sangue freddo ma Splinter gli ricorda di non confondere il sangue freddo di un leader con un cuore freddo. Infatti vediamo nell'epilogo finale, in uno dei due epiloghi finali, che Leonardo sta meditando probabilmente per onorare la morte di Slash, sta meditando di fronte alla katana che lo ha ucciso, che lo ha ferito, con questa bandana nera legata attorno appunto alla katana. Slash ovviamente non è morto, lo vediamo defluire da questo canale di scolo e incappare, guarda caso, in Vecchio Diavolo che lo recluta, però comunque lo recluta per... si percepisce che il suo obiettivo, l'obiettivo di Vecchio Diavolo, sia fare del male alla Stockgen e non alle tartarughe ninja. Quindi si stanno creando i potenti mutanimali sostanzialmente. Mentre nella seconda storia, una seconda storia si basa totalmente sulla storia del fuggitoide, il robot fuggitivo proveniente dalla dimensione X. Un personaggio apparentemente tutto nuovo che risale addirittura alle storie di Eastman e Lyre dell'84, che non è stato neanche mai visto nella serie dell'87, che io ricordo. Sicuramente hanno fatto il giocattolo, ma non so se c'è stato un personaggio così importante. Avranno fatto una puntata, dato che non c'era una trama orizzontale nella serie dell'87. Non so neanche se ne hanno parlato nella serie del 2012. No, sì, certo, scusate. Tutta la quarta stagione della serie del 2012 è basata sul fuggitoide. Qui lo vediamo assumere l'aspetto di una persona che c'è stata finora nella storia sotto copertura. Quindi vediamo che la storia di questo fuggitoide che è un abitante del pianeta neutrino nella dimensione X, quindi in contrasto con gli Utrom e la guerra di Krang che vuole appunto terraformare il pianeta neutrino, si allea alla resistenza dei neutrini, scappa da Krang e porta con sé tutta la sua scienza, perché il fuggitoide è il professor Honeycutt che è uno scienziato. Porta la tecnologia, la sua scienza a favore della resistenza, viene trovato dagli Utrom la base della resistenza viene distrutta. Lui per salvare la sua famiglia scarica la sua coscienza, tutta la sua la sua conoscenza in questo robot che stava costruendo, il robot che si chiama Sal se non sbaglio, ma poi verrà sempre chiamato Fuggitoide. Questo robot tra le varie qualità ha la qualità di avere una forte resistenza al fuoco, al calore e di potersi trasformare per mimetizzarsi tra la gente. Vediamo che scarica appunto la sua coscienza in questo robot e cerca di salvare la sua famiglia purtroppo in vano e quando è messo all'angolo dal dai generali di pietra di Krang scappa in un portale in un portale che stava costruendo con i neutrini. Questo portale lo porta a New York il potere diciamo la capacità del robot di mimetizzarsi lo rende a tutti gli effetti ai nostri occhi un newyorkese un essere terrestre e scopriamo che questo essere altro non è che Chet o C'è non so come si pronuncia se in francese o in inglese comunque è l'assistente di laboratorio di Baxter Stockman che da 18 mesi è sotto copertura alla Stockgen per capire perché la Stockgen sta collaborando attraverso un'altra dimensione attraverso il portale con il generale Krang e quindi vediamo che Chet è stato vicino in un certo senso anche alle tartarughe ninja durante la loro sperimentazione che conosce April eccetera eccetera quindi sicuramente nel prossimo episodio complice anche il fatto che nella quarta di copertina c'è un bel neutrino stile cartone animato dall'87 che sta minacciando Leonardo sicuramente lo vedremo vedremo la storia di Honeycut riversarsi nella continuity principale tra l'altro ho anche scoperto che oltre al numero 13 esiste questo speciale Teenage Mutant Ninja Turtles a giugno di non so quale anno in edicola a soli 3,50 euro con questa copertina ma sono abbastanza convinto di non avere questo numero quindi se voi lo avete scrivetemelo qua sotto nei commenti io controllo se ce l'ho ovviamente ne parlerò tra due settimane quindi dopo che avrò parlato dell'uscita regolare della serie se invece non ce l'ho farò di tutto per recuperarlo e parlarne con voi io intanto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchine con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti